Partiranno da Giulianova domani mattina alle ore 7 in direzione ucraina attraversando la Romania due furgoni carichi di materiale sanitario e di primo soccorso. Un viaggio di 3000 km circa frutto dell'impegno di quattro associazioni che hanno raccolto la richiesta di aiuto di Nadia, una signora che da diversi anni vive nel comune costiero e che ora si trova a Leopoli per assistere la mamma malata. Partiranno i primi due furgoni carichi di materiale esclusivamente sanitario, di primo soccorso con medicinali e quant'altro. Abbiamo risposto ad un appello di una nostra carissima amica Nadia, ucraina, che si trova in questo momento a Leopoli, la quale sta cercando di fare la sua parte facendoci attivare noi qui sul territorio. Ci siamo uniti in quattro associazioni, noi del Colibri, la Voce dell'Abruzzo, Radio Tortoreto e Soccorso Amico. Abbiamo unito forza e competenze, abbiamo messo su in pochissimi giorni veramente un'opera di solidarietà notevole. Abbiamo raccolto tantissimi medicinali che porteremo, grazie appunto al contatto di Nadia, saranno destinati al centro militare medico di Kiev. Abbiamo contatti con la fondazione di questo centro clinico, sperando che vada tutto bene. Noi arriviamo al confine con la Romania e aspetteremo i nostri contatti che cercheranno di oltrepassare la frontiera per fare il carico. Tantissima gente, una risposta immediata della popolazione, non solo di Giulianova, ma di tutte le città limitrofe, Tortoreto, Albatriati, Camociano. Devo dire che siamo stati molto soddisfatti perché abbiamo organizzato in pochissime ore e abbiamo raggiunto dei risultati a livello proprio di materiale e di contenuto notevole. La cosa più difficile è quella del trasporto perché lì è diventato un costo quasi proibitivo. Sì, diciamo che stiamo combattendo anche per poter affrontare questo viaggio. Siamo due furgoni, due camion, dunque costi raddoppiati. Stiamo cercando di raccogliere anche donazioni in denaro per quanto riguarda appunto la possibilità di affrontare al meglio questo viaggio. ce la faremo, ce la faremo.